Buongiorno a tutti i suoi social 0 che ci hanno visto un video canto che sono tuttora tuttora di camioncino. Ok, iniziamo. Sono troppo e stanco, mi vedo sempre alle 4 del mattino, ciò mi è stato troppo veloce, non riesco a fare colazione, non riesco a che mi aspetta il pampandino, il lavoro, guardo quanto ci ha a collo duro, mi ha affettato il cucane, tutta la giornata, sono troppo e stanco, è tra camioncino, è meglio a casa con il tutor, sono troppo e stanco, è tra camioncino, è meglio a casa con il tutor, io sto morendo, se sto venendo, l'odore è molto esterno, Ciccio, un cucane lo trovate, è all'umido, il boscazzo, non puro sempre i ciglioni a fare all'umido, quando ci ha a collo duro, mi ha affettato il cucane, tutta la giornata, sono troppo e stanco, è tra camioncino, è meglio a casa con il tutor, Tutto la giornata, sono troppo e stanco, è tra camioncino, è meglio a casa con il tutor. Tutto la giornata, no? Tutto la giornata, no? Tutto la giornata, no? Tutto la giornata? Ho proprio qua, è un carattenno, è una casa con il sorriso, la mia fid professor, è tra camioncino, è un canciono, è tra camioncino, è proprio a casa con il tutor, è troppo e stanco, è manco la היura, da camioncino, è meglio a casa con il tutor, no? Ok, la casa è finita quindi adesso è tutto all'interno